MotoGP, Stoner elogia Bezzecchi. Rispetto agli altri ha una cosa in più. L'ex campione del mondo australiano ha sottolineato una caratteristica del riminese del team WR46. Nello scorso weekend è andato in scena il Goodwood Festival of Speed, giunto al trentesimo anniversario. Un'occasione per celebrare le eccellenze del motorsport, con tanti ospiti illustri. Tra questi anche Casey Stoner, che ha parlato della situazione in casa Ducati e del potenziale di Marco Bezzecchi. Nelle parole rilasciate a Speedwick, l'ex campione del mondo australiano ha sottolineato. Appena ho visto come guidava mi è piaciuto. Ai miei occhi ha qualcosa che manca agli altri piloti. In particolare, Bezzecchi sarebbe tra quelli capaci di rimanere là davanti anche senza l'elettronica. Marco ha uno stile di guida che gli permette di gestire il grip in un modo unico. Sicuramente alcuni degli attuali primi classificati continuerebbero probabilmente ad essere davanti, ma penso che Bezzecchi avrebbe un piccolo vantaggio se il controllo di trazione venisse bandito. MotoGP Stoner, Bagnaia sta facendo lavoro fantastico. Inevitabile, poi, un commento sulla crescita di Francesco Bagnaia fino alla conquista del titolo dello scorso anno. È lui il punto di riferimento. Sta facendo un lavoro fantastico, e non solo dall'anno scorso, era molto competitivo anche prima. Ma immagino che in qualche modo avesse bisogno di calmarsi un po', e l'ha fatto. Ha imparato molto negli ultimi due anni, e ha lavorato sui suoi punti deboli. Cari appassionati, siamo giunti alla fine del video. Voi che preferite tra Bezzecchi e Bagnaia? Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Stoner? Lasciaci la tua opinione all'interno dei commenti, e ricordati di iscriverti al canale. Alla prossima!